Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, Gesù passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina. Alcuni dicevano è lui, altri dicevano no, ma è uno che gli assomiglia. Egli diceva, sono io. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano, come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco, tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. Gli replicarono, sei nato tutto nei peccati e insegni a noi, e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose, e chi è il Signore perché io creda in lui? Gli disse Gesù, lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli gli disse, credo Signore, e si prostrò dinnanzi a lui. Parola del Signore Il miracolo della guarigione del cieco nato, unico nel Nuovo Testamento, è costruito intorno a sette quadri. Il primo quadro presenta i personaggi, Gesù e l'uomo cieco. L'incontro tra i due avviene senza alcuna mediazione. È Cristo stesso che si fa attento al mendicante, il quale è in attesa di aiuto. Gli apostoli, riferendosi al tragico destino di questo uomo, pongono a Gesù una domanda che accomuna tutti. Perché la sofferenza? Che nel senso, che nel caso concreto diventa perché è nato cieco, di chi è la colpa? La mentalità del tempo, ma non solo, riteneva che la malattia fosse la conseguenza di una colpa personale o dei genitori. Gesù rifiuta questo modo di pensare e precisa che la cecità dell'uomo appartiene al piano di Dio, perché serve a manifestare la sua volontà di salvezza. Gesù fa precedere la guarigione da una serie di gesti che accompagnano la potenza della sua parola. Sputa per terra e con la saliva fa del fango che spalma sugli occhi del cieco. Si tratta di azioni che richiamano la creazione di Adamo. In tal modo, Gesù manifesta di avere lo stesso potere creatore di Dio. Egli, infatti, sta per dare nuova vita al cieco. Inoltre, a differenza degli altri miracolati, a questo cieco viene chiesto di fare qualcosa. Deve andare a lavarsi alla piscina di Siloe, che, precisa l'Evangelista, significa inviato. In realtà, il nome Siloe significa acqua inviata, ma Giovanni gli attribuisse un senso attivo, perché intende sottolineare che l'inviato è un altro. Il cieco, dunque, fidandosi della parola di Cristo, si reca alla piscina, dove si lava e ottiene la guarigione. Ma la guarigione non è opera dell'acqua, ma di Cristo stesso, che è l'inviato di Dio per la salvezza dell'umanità. Commenta Sant'Agostino, si lavò a Siloe, cioè fu battezzato in Cristo. Il secondo quadro ha come protagonisti i vicini del cieco e coloro che lo avevano visto chiedere l'elemosina, i quali, dopo la sua guarigione, si interrogano circa la sua vera identità. È lui o non è lui? Queste polemiche vengono messi a tacere dalla dichiarazione del miracolato, sono io, e racconta come Gesù lo abbia guarito anche se non sa dire nulla della sua identità e neppure dove egli si trovi. Il risanato è un uomo che vive ancora nel buio della fede, nonostante abbia ricevuto il dono di vedere. Tuttavia è onesto. La sua onestà si rivela dal fatto che non nutre pregiudizi nei confronti di Cristo e non è arroccato sulle sue opinioni personali. Riconosce di non sapere e quindi rimane aperto, disponibile a saperne di più. Il terzo quadro descrive l'incontro tra il risanato e i farisei, i quali sono in discordia tra di loro riguardo a Gesù. Infatti il miracolo è stato compiuto in giorno di sabato, per cui alcuni ritengono che Gesù, avendo compiuto un'azione proibita dalla legge, fare del fango, è un peccatore e in quanto tale non può venire da Dio. Altri invece, considerando l'evento miracoloso in sé, affermano che un peccatore non può compiere segni così straordinari. Il cieco guarito risolve la diatriba tra i responsabili del popolo ebraico, riconoscendo in Gesù un profeta e in quanto tale non è solo gradito a Dio, ma agisce e parla in suo nome. Il quarto quadro riporta l'incontro tra i genitori del cieco e i farisei. Questi vogliono costringerli a dichiarare che il loro figlio non è nato cieco. I genitori confermano la cecità della nascita del figlio, ma non si espongono sul come sia stato guarito. Sono intimoriti. Manca loro il coraggio di schierarsi a favore di Cristo, perché temono di venire marginati, isolati, perseguitati. Ieri come oggi. Il quinto colloquio racconta un nuovo incontro tra il risanato e i farisei. Ancora una volta i farisei affermano che Gesù è un peccatore. Non ha alcuna importanza per loro che la guarigione sia effettivamente avvenuta. Sant'Omaso d'Aquino, nel suo commento a San Giovanni, afferma che l'atteggiamento dei farisei verso Gesù è condizionato dalla malizia, un pregiudizio che in maniera molto sottile ma con cosciente volontà porta a negare il bene compiuto dal fratello. Si tratta di un atteggiamento sempre attuale, purtroppo. Scrive, Quelli che agiscono con malizia contro qualcuno tacciano se vedono qualche cosa di buono in una sua azione, mentre se vi appare qualche cosa di male, lo manifestano. Così i farisei passano sotto silenzio quanto appare come bene, cioè l'illuminazione del cieco, mentre manifestano quello che può essere contro Cristo, l'inosservanza del sabato. A causa della loro malizia, i farisei giungono a negare anche ciò che è evidente. Il cieco risanato, al contrario, partendo dall'azione compiuta da Gesù, riconosce che egli viene da Dio. Sappiamo, dice, che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. E' come se dicesse che solo una persona che viene da Dio e ama Dio può compiere un'azione così grande. I farisei a queste parole si sentono colpiti sul vivo e reagiscono rifiutando in maniera ancora più decisa Gesù, coprendo poi di insulti il cieco guarito, lo cacciano dalla sinagoga. La situazione del mendicante sotto processo richiama la missione del cristiano nel mondo che è chiamato a confessare Cristo e a testimoniare la verità. Una missione oggi alquanto difficile e problematica, perché a fronte dell'importanza attribuita da Cristo alla testimonianza cristiana per l'annuncio del Vangelo sta il pensiero postmoderno. Questi, di fronte all'infrangersi l'uno dopo l'altro di tutti i progetti di autoredenzione scogitati a partire dalla seconda metà del XIX secolo, è impegnato a costruire un mondo in cui possono regnare libertà, tolleranza, pace e persino amore, purché si rinunci al tema della verità. In altre parole, si deve dare addio alla verità. La verità viene congedata non più e non solo per l'impossibilità a raggiungerla, ma perché essa appare ora nemica della libertà e della tolleranza. E così giungiamo al sesto quadro che ci presenta un nuovo incontro del risanato con Gesù che avviene ancora una volta per iniziativa di Cristo. Quello che si è compiuto nel cieco nato avviene sempre nella storia dell'umanità. Cristo, infatti, è colui che è venuto duemila anni fa nella storia e colui che viene oggi nella fede e nei sacramenti. Dopo la sua resurrezione, egli vive in eterno e si rende contemporaneo ad ogni uomo, perché all'uomo, dopo il dono della vita, gliene deve essere fatto un altro, quello della fede. Riprendiamo il dialogo tra Gesù e il cieco guarito. Gesù gli chiede, tu credi nel figlio dell'uomo? Risponde il risanato, e chi è Signore affinché creda in Lui? Questa richiesta, che esprime il desiderio di conoscere Dio, porta Gesù a manifestarsi. Lo hai visto ed è quello che parla con te. Gesù si rivela come la parola di Dio incarnata che viene incontro agli uomini e li interpella. Ora quello dichiarò, credo, Signore. Con queste parole siamo giunti al vertice dell'episodio. Il cieco risanato proclama ufficialmente la sua fede che costituisse il coronamento spirituale di un lungo e tribolato cammino, vissuto in un ambiente a Lui ostile. Gesù per Lui non è più semplicemente un uomo, non è più neppure un profeta, cioè un inviato da Dio, ma è il Signore. Con il dono della fede, il guarito dunque riesce ad andare oltre le apparenze e accogliere il mistero di Gesù, la sua vera identità di figlio di Dio. Dopo questa scoperta, immediatamente la sua fede passa dal dire al fare, si prostra davanti a Cristo. Scrive Sant'Ommaso, con ciò mostrò di credere la sua natura divina. Lo riconobbe non solo figlio dell'uomo, come appariva all'esterno, ma figlio di Dio, il quale aveva assunto la nostra carne. L'adorazione, infatti, è dovuta soltanto a Dio. Adorerai il Signore, Dio tuo. Il cieco risanato compie dunque un gesto di adorazione che è riservato solo a Dio. In tale modo riconosce di trovarsi davanti a colui che è il Signore della vita e della storia. Gli attribuisi il posto che deve avere, lo sceglie come guida e lo accoglie come suo Dio e Signore. Per giungere a tale maturazione, ha dovuto accettare di mettere in discussione le certezze e le sicurezze sulle quali fondava la sua vita, comprese quelle derivanti dal mondo sociale, culturale e religioso in cui viveva. Tuttavia queste rinunce e privazioni sono state ampiamente compensate dalla sua nuova condizione. Ora gode dell'amicizia del Figlio di Dio e per mezzo di Lui è reso partecipe della vita divina e coerede del Regno dei Cieli. Il risanato ha assunto un atteggiamento opposto a quello dei capi del popolo, costoro, poiché si sentivano persone per bene, giuste e chiuse nelle loro certezze, hanno ritenuto non necessario entrare in un cammino spirituale e così sono rimasti impermeabili alla novità di Cristo che avrebbe contribuito a cambiare in bene la loro vita. Ha scritto Charles Peggy che le persone per bene non si mescolano con la grazia. Per questo è più facile che siano toccati e permeati dalla grazia i grandi peccatori piuttosto che le persone virtuose. Il settimo quadro descrive il confronto di Gesù con i farisei. Il significato di questo miracolo ci viene spiegato in maniera molto precisa dal prefazio della Messa della quarta domenica di Quaresima. Cristo, nel mistero della sua incarnazione, si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita ha liberato gli schiavi dell'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Così il prefazio. Il sacramento della nostra rinascita è il battesimo nel quale ognuno di noi è stato lavato dal proprio peccato in Gesù Cristo. Siamo entrati ciechi dalla nascita nella vasca battesimale che è la nostra piscina di Silue e da essa siamo riemersi vincitori sulle tenebre del peccato. In quel giorno, noi, o chi per noi, abbiamo ripetuto le stesse parole del cieco una volta che è giunta alla fede. Io credo, Signore. La fede è la luce di Gesù che si accende nella nostra vita e con la quale ci viene svelato chi è Dio, che cosa fa per noi, chi siamo noi, che senso ha la nostra vita e qual è il destino finale del nostro esistere. Una persona che ha ricevuto il dono della fede vive una vita che va oltre il dato puramente umano perché si apre alla comunione con Dio in Cristo Gesù. Il credente con la fede riceve il dono di avere illuminati gli occhi del cuore e di godere del pensiero di Cristo. Questa visione della fede trova il suo fondamento nella scrittura. San Paolo precisa che la fede è via per la comprensione del mistero di Cristo perché la fede cristiana nella sua natura più profonda è incontro, relazione, comunione con Cristo perché, come insegna sempre l'Apostolo, per mezzo della fede Cristo dimora nei nostri cuori. La chiamata della fede dunque è legata indissolubilmente ad una conoscenza intima e amorosa di Cristo simile a quella di cui hanno fatto esperienze i discepoli nei tre anni vissuti con Gesù. L'allora Cardinal Ratzinger precisava che la fede è vita perché è relazione, cioè conoscenza, che diventa amore, amore che proviene dalla conoscenza e conduce alla conoscenza. La vita dunque è vivere alla presenza di Cristo. Vivendo la relazione d'amore con Lui si vede il Padre e ci viene svelato il mistero che siamo noi. Vivere nella fede significa dunque entrare in un mondo nuovo e quindi in una vita nuova perché si è immersi nel mondo di Dio e si respira l'eternità. Questa ampiezza di prospettive ci devono portare a riconoscere che la fede oltrapassa la ragione ma non la deprime né la umilia ma la potenzia e la esalta ed offre un principio nuovo di conoscenza e di azione. Il cielo, il cieco risanato attribuisse a Gesù il titolo di Signore non per motivi di rispetto o di cortesia ma perché come abbiamo visto riconosce in Lui il Figlio di Dio. Questo ci porta a comprendere che la fede del cristiano non è una fede in una qualsiasi divinità non si risolve neppure in un vago sentimento religioso ma ha un contenuto ben preciso essa è fede in Gesù Cristo Figlio di Dio. La catechesi e la predicazione se non vogliono tradire la missione che il Signore Gesù ha affidato alla sua Chiesa non possono limitarsi a presentare solo l'umanità di Cristo e tacere la sua divinità perché se Gesù è solo un uomo noi non siamo né redenti né salvati. La crisi che affligge la Chiesa è sempre crisi della fede in Cristo Figlio di Dio tutto il resto consegue. Questa connessione crisi di fede crisi della Chiesa l'aveva già colto un grande santo Ilario il quale scrive che alcuni sarebbero giunti a confessare di credere in Cristo negando però che era il Figlio di Dio. Davanti a Gesù che si rivela entra in gioco la libertà dell'uomo. Alla luce che si manifesta l'uomo può scegliere di accoglierla o di chiudersi con la presunzione di poter fare a meno di Dio. E' questo il vero peccato che fa scendere la notte sul mondo. E' innegabile che si compiono grandi opere indipendentemente dalla fede. L'industria il commercio la cultura la scienza la tecnica possono svilupparsi a prescindere dalla fede e da Dio. L'uomo rimane quasi inebriato della sua grandezza e si affida alle opere delle sue mani credendo di trovare la salvezza a prescindere da Dio ormai considerato il retaggio di un'epoca ormai superata. Nonostante le straordinarie conquiste siamo però costretti a constatare che l'uomo non è contento non è tranquillo è insoddisfatto. Anche la vita sociale è turbata da tanti inquietudini e incertezze. L'uomo di oggi vive ma il perché della vita gli sfugge. Questa mancanza di finalità che genera nausea malcontento insoddisfazione è una caratteristica delle nazioni più sviluppate progredite ed evolute economicamente. L'uomo deve ritrovare l'umiltà di riconoscere che gli manca qualcosa o meglio qualcuno gli manca Dio. Infatti come insegna Gesù l'uomo non vive di solo pane cioè di beni materiali ma ha bisogno anche della parola di Dio. Sant'Agostino vede nel cieco nato l'umanità intera che lontano da Cristo cammina nelle tenebre. Occorre che si accenda una luce e questa luce è Cristo. Siamo chiamati a lasciare che il Signore invada la nostra vita e ad entrare in un processo di trasformazione interiore che deve portarci per usare la bella espressione di San Paolo a rivestirci di Cristo. Il fine ultimo infatti di ogni uomo è di diventare un altro Cristo perché solo chi è trasformato in Lui potrà entrare nella casa del Padre. È questo l'unico e vero obiettivo dell'esistenza. e vero obiettivo